Musica Io ho cominciato a 11 anni Perché, per caso, mio papà e poi voi provate la mia età di sport Io ho vinto 7 titoli mondiali The legend, Kao Poli Io non ho mai ricordato la mia vita, come Toffè ho vinto Un po' di ricordi del titolo è importante e basta A Milano io si trovo bene con la gente, con la persona Io, la vita non cambia tanto Sempre in palestra, giro fuori, sempre in palestra Io combattro per la famiglia La mia regione, la mia famiglia, io sempre Prima del combattimento è mio Non taglio lunghe due giorni prima del combattimento Non taglio la cappella due o tre giorni prima del combattimento Il sport da combattimento l'ho iniziato 4 anni fa Perché mi piace il sport da combattimento Ho provato a fare la Muay Thai, mi è piaciuta E vado avanti Mi piace, cioè, di mettermi a me con un'altra persona E di vedere la differenza tra me e lui Ho iniziato perché mi piace uno sport da combattimento Allenarmi Hai visto tuo fratello Con mio fratello siamo arrivati cinque anni fa in Italia E siamo abituati all'inizio, erano le vinci Adesso siamo abituati, abbiamo palestra, amici E ci piace Prima volta in palestra, divertiti E dopo vieni da solo Non scattivare niente, sai, però Non scattivare niente No, no, ma cari Alfa, ancora Capisci in meno? Oh Grazie 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 Grazie